Salve ragazzi a questo ultimo capitolo della campagna di Jake di Resident Evil 6. Siamo arrivati alla fine. Eh già, che tristezza. Questa è per l'ultima parte. Eravate affezionati un po' a noi? Non penso. Qualcuno sì. E siamo in prigionia. Eh già. Però siamo insieme. Chissà perché. Chissà in questo qui. Fanno ancora in tempo. Grazie al poverbiare aiuto di Chris che li libera. Grazie, grazie. Tu l'hai un emblema visto? No. Ah io dietro di me quindi davanti a te c'è un emblema. In alto a destra. Però giustamente non abbiamo armi. Ecco. Dobbiamo trovare un modo per liberarci. Jake, in lì. Ci sono le opzioni. Ottimo. Se le stanno ciucciando i topi. I topi? Ah quindi ti devo tirare sopra. Sì. Ah eccolo l' emblema. Mi ha apparito il cerchio. Sì sì, sta lì. L'ho vista adesso. Grazie. Che toponi. Però quelli sono virus. Sono virus piati. In qui c'è un buchino ino ino. Potrò scendere? Ah quindi anche Sherry striscia nei cunicoli. Oh lei mancava il riguadro del culo di Sherry giustamente. Mancava solo lei. Beh anche Pierce eh. Devo ammettere che quello di Pierce è il più bello di tutti. Oh. Aiuto. Nemici? No aiuto sento perché gridi. No Sherry. Oddio attento ci stanno quelli immortali. Alla mia priera. Come? Mi apri. La devi sfondare adesso. Forse devi sparare. Ok. Ah ecco. Perfetto. Ancora? Vabbè lui continua a sparare. Eh sì infatti. Aspetta. Prima di andare avanti. Ok. Quindi io speravo di averli saltati sti cosi con loro. Che pizza. Non ci provare. Ok. Andiamo qui. Ancora? Oh no 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 no. Ok. Ah ok. Andiamo dai. Ma penso quello. Alla mano. Dobbiamo arrivarci prima dalle scatole queste. Se non. io ce l'ho ancora la munizione aspetta ok vai ora perfetto via adesso e voilà dove siamo? ah non ne ho idea ah ma questa è la stanza è una delle stanze quella che si ronte ah si è vero può essere anche se può essere che ho un semplice corridoio no aspetta prima di entrare vediamo se c'è qualcosina anche se che dobbiamo andare proprio lì questa è sicuramente una stanza come è passato Chris probabile si eh si qua c'è anche un'altra porta vabbè vediamo cosa c'è oh un enigma bellissimo beh ci sono mancati no le batterie stai scherzando mi ricordano un sacco di cose ah mi sembra sempre tirare la leva ma che mi fa è che noia ops ok bene dobbiamo cercare altre ecco giustamente questi arrivano al frattempo clicca clicca aperto aperto ma che c'è questa roba ah c'è la lava ma perché c'è sempre la lava mi fa saltare no vabbè aspetta il prossimo giro vediamo se io cerco di capire dove voglio andare beh sì ah ok lo devo sempre andare qui arrivo no no aiuto qui nel frattempo uno di questi vediamo attenta che c'è la mano ah eccolo via ci mancano uno due tre quattro leve ehm sì no dobbiamo andare in lì credo sempre ce l'hai dietro sì sì qui cosa c'è qui mi sto perso nel frattempo mi sto perso anch'io aspetta che sta arrivando a cosa lì ah ecco di qua di qua oh no l'abbiamo perso eh non posso aspetta qui c'è un emblema se vuoi qua dove sono io ok poi ci sono anche due di cui cosi quindi occhio sta nella vetrina nella vetrina qua qui dove sto sparando a questi ah ok cioè dobbiamo andare lì lì qua ah io ti seguo se arriva l'ascensore magari vai ma è torto allora è dall'altra parte no attenta vieni da me la mano sì grazie era a sinistra era di qua tipo però però a me da è anche a me quindi quindi aspettiamo che si giri non lo so ma porca miseria come si fa con qui ah ecco è dritto adesso vai vai no no si è girato di nuovo vabbè dobbiamo semplicemente aspettare cosa non troppo facile da fare con questi cosi che ecco ecco vai corri no eh niente vabbè io aspetterò il prossimo giro tanto questi cosi per il momento si sono fermati ok ah ok ecco arrivo tu dove sei andata? ehm quella di sotto ok ho sbagliato ecco perfetto oh qui ho una stanza che posso aggiungere solo io col scatto ci vado un attimo un secondo si vediamo cosa c'è è un cosone che dà punti nient'altro dai aspetta che fa il giro qui ok sto arrivando è un altro è un altro per far tutto diretto però ok ci sono per aiuto no no e dove sono le eleve? eccola qua segui il segnale e ora dobbiamo andare al G dove posso andare solo io? no ok allora sei fatta? no no ecco mia ecco per il tempo ho sbagliato mannaggia no fino a l'altro devo andare qui credo forse no ho sbagliato ce io guardo ti ho sbagliato io adesso ho sbagliato una che l'amore una c'è su dai, briga da uscire ok, forse ci sono aha si dai usta, ti va piacere come l'apparimento? oh le no no che io devo andare qua? si ma perchè va giù? ho un pochino casinato, ok io qui ci sono aaaa troppo ci sono eh ma non so come fare ad aggiungerti eh, forse devi prendere un'altra strada devo prendere quell'ascensore se si girasse faccio cosi, no no, non si gira è che qui la strada la strada che dovresti prendere tu è chiusa eeeh vediamo qua se posso fare qualcosa eeeh trovate la strada? mmmh non penso no forse devi andare alla i si che sto sopra e che ascensore devo prendere per arrivarci eh, devi prendere il secondo, quello più alto che se si prende sulla F sulla F? si, sulla F non ci sono mai arrivato la F io eh, la F sta sopra ok allora questo ascensore mi porta alla A che è chiusa oppure alla D che è chiusa alla F ma alla F non arriva l'ascensore più alto ah no eh no perché quello fa la D figura? aaaa non ci arriva? no, devo fare un altro giro sicuramente ma io non mi ricordo perché l'ho fatto a caso e c'ho avuto culo, ecco a questo si ferma sulla sulla D ferma se non vedo male, però tu sulla D non ci puoi andare salta stupida quello su sto piano c'è giusto la I che potrebbe portarti da me perché l'altra è la G e ci salta solo vedo se mi sono magari lasciato qualche leva indietro per aprirti ma non mi sembra o le ci sono sei? ok allora vado alla leva i i ok è l'unica su questo piano? arrivo aspetta che ho, ok questa cosa ogni tanto si riprende eh lo so ok ci sono ok ci sono ok poi ho qui siamo divisi tipo da un muro elettrico, ok ce l'abbiamo fatta ehm ecco ma il bello è tornare giù, ok sulla B B dai dai non posso dire la botta perfetto bisogna sconfiggerlo si uff si è stritto e adesso? no dai esplode ecco 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 dobbiamo usare la botta, aspetta oddio ho fatto il contrattacco sulla mano anche io come lì dov'è il... ah eccola vai bloccalo eh lo avevamo fermato prima sto poco di gira buono adesso saltiamo, dovessi cambiare idea ho fatto un salto che non triccola dentro tu si infatti ahhh non cadrai vero? lo buttano sotto oh caccio rolanche è duro fa traballa tutta senta ahhh 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 direi che è morto eh però giusto in te ne arriva un altro ma sarà da sbloccare la la gru? ahhh ahhh no ahhh guarda sola vai f che fa proprio lì? oleee no no so vuoi che sia adesso devo di nuovo la rampicarmi ah no fortuna ahhh dai che ce la fai ok sì sì fatto fatto adesso tanto ce ne sarà un altro sicuro ecco anche di corsa bene non è che moriamo corri vai vai corri vai vai ah perché sei infestrato lì dai 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 ecco c'è anche il cotto dietro che si segue perfetto cavoli suoi magari muore il caccato si rimane per una volta dai no no ok ce l'abbiamo fatta come saltiamo? saltiamo e basta ah ok mi muori una buona volta ok qualcosa una lattina di red bull gigante ehhh ok mi sento realizzato adesso ti basta una foto? capiamo dal suo posto si si si